Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. In FIPILI chiusa l'entrata di Navacchio verso Firenze. Si informa che a Pistoia, per il danneggiamento di un ponte, il tratto della tangenziale tra Pistoia Ovest e Ponte Europa è chiuso al transito in entrambe le direzioni fino a domani. Fino al 9 marzo chiusa la funicolare di Certaldo per lavori di collaudo e manutenzione. Attivo al servizio di trasporto alternativo. Ed è tutto, buon viaggio!